Bloccare il transito dei mezzi pesanti, soprattutto quelli della ricostruzione, al mattino presto in concomitanza degli ingressi degli studenti e del personale scolastico e degli altri uffici pubblici, per una questione di sicurezza. La proposta è del consigliere comunale e segretario del Partito Democratico Stefano Albano. Depositerò a breve una mozione da mettere in discussione in Consiglio Comunale che impegni il sindaco a emanare un'ordinanza che sarebbe importantissima ai fini della sicurezza e del miglioramento del traffico della nostra città. L'ordinanza, da concordare con l'ANCE e le altre associazioni di categoria, disporrebbe il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, a cominciare da quelli utilizzati nella ricostruzione, dalle ore 7.40 alle ore 8.30 del mattino, nella fascia oraria che è più critica perché coincide con l'apertura degli uffici e soprattutto delle scuole. I benefici sarebbero immediati ed evidenti. I bambini ed i ragazzi raggiungerebbero la scuola in condizioni di maggiore sicurezza. Si pensi soltanto a quante preoccupazioni in meno avrebbero chi utilizza scooter e motorini. In generale ritengo, conclude Albano, che il miglioramento sarebbe generale perché il traffico si alleggerirebbe in quell'ora critica e verrebbe spalmato in maniera più efficiente lungo l'arco della giornata. Sarebbe vantaggioso anche per le ditte e i conducenti dei mezzi pesanti.